Una grande azienda, Sisal Sport Italia, che nel 1996 ha compiuto 50 anni ed è cresciuta con l'arrivo di Enalotto, con il grande sviluppo di Tris e con il successo di Totip Plus. Di qui la decisione di lanciare una nuova ed importante campagna pubblicitaria che in un'ambientazione comune promuove tutti e tre i giochi Sisal. Non riesce mai ad andare dal parrucchiere. Non riesce mai a fare colazione. Consuma decine di rossetti. Cammina a fatica nell'ufficio dove lavora. Chi è? Un'impiegata della Sisal, così impegnata a baciare i tanti vincitori da non avere nemmeno un attimo per sé. Non un'impiegata comune, ma niente di meno che la dea bendata. A dare corpo alla dea è un'attrice ricca di verde e di simpatia, l'affascinante e bellissima Nancy Brilli, della quale tutto il set si è immediatamente innamorato. Siamo a Cinecittà. I filmati realizzati, parte in teatro e parte in vere ricevitorie, sono stati creati dall'agenzia Armando Testa e magistralmente diretti da Alessandro Dalatri. La stessa squadra che ha prodotto le fortunate serie pubblicitarie con Tullio Solenghi e con Massimo Lopez. E' carina anche la fatica che fai, aiutatela, dategli la pala e non se si aggira più qua, porca mia, che poi manco me con te, è un momento, arrivo. Butti la pala da qualche parte, è bello. Momento arrivo e arranchi fino al telefono. Pronto Sisal? Pronto Sisal? Ti rendi conto col cronometro? Guarda, lo bacio proprio volentieri. Questo me lo bacio proprio volentieri. Sei maniaco? Lo sai. Un altro. Un altro. Ma sto. Che casca tutto. Non posso toccare qui. Mi è stato detto che mi chuncano la maniuna. E io. Mi sentivano, è... Ma questa triste è uno stress. Carina. Ma questa triste è uno stress. È troppo poco. Beh, era una bella prova, no? No, bene, ma anche... Ma chi ha avuto l'idea? Noi facciamo tante cose in coppia. Attenzione, il libro, con i carabinieri. Lui legge e io guardo le figure. Durante le riprese si è verificato un fatto straordinario. In quei giorni, nel concorso numero 42, una scheda a totip più ha fatto vincere quasi due miliardi. Sarà un caso? O forse è un primo intervento della dea bendata per una campagna che nasce nel filone dello humor, della simpatia e della fortuna? Ho vinto. Ma non ho vinto. Ma non ho vinto. Però con il telefonino lo facciamo. Sì, sì, ne abbiamo molti di questi telefoni perché sei incastrato. Mi sei incastrato in piedi con il mio? Risponde la segreteria della dea bendata. Lasciate un messaggio dopo il mio e se mette una mano davanti alla faccia. È vero? Non ci si gira più qua dentro. Guarda, guarda, guarda. Mh, momento. Maia. Momento, arrivo. Pronto, Sisa? L'ufficio di è bendata? Ah, è lei con la Santi. Com'è? Un altro fortunato da baciare. E quanto mi ce l'ha? Due miliardi. Ma allora è totipo. Ah, me lo bacio proprio volentieri. Sì, così faccio un po' di pulizia. Che bene. Va bene, va bene, vado. Che ora è? Ecco, lo sapevo. Anche oggi niente parrucchiere. Allora, la cornucopia è lì. La benda si caperai. Falla a trovare. Ma Nela, l'hai bendata? Bendata? Soprattutto, beh. E mi ha baciato. Ma questa è la volta buona che smetti di lavorare. Ma... Perché? Cosa fa? Parrucchiere. Per signora? Non ho per uomo. Ma che sfida. Fortuna. Tocchip. La fortuna viene giocando. Pronto, Sisa? L'ufficio di è bendata? Un altro. Ah, ma sta triste è uno stress. È troppo facile. Dov'è? Piacereggio. Siete, vedete che me lo sento. Lo senti, qui sparisce la roba. E non hanno tre matite. C'è Sirio. C'è Sario. C'è? E senza la giunità. C'è, c'è. Buongiorno. Ma non ti ho già baciato l'altro ieri? Infatti. Guardi un po'. Bello. D'oro. Eh. Posso intestarei attento? A me non hanno tre matite. Tris. La fortuna viene giocando. Pronto, ufficio di è bendata? Ah, e lei con la Santi. Avanti. Buongiorno. No, non dicevo a lei, con la Santi. Metti pure qui. Eh, fai la cortesia. Segna che non hai soldi. Eh, chi devo baciare? Ah, è una lotto. E prendi il cappuccino. Vabbè, vado, vado, vado. Beh? Che me lo dà un bacetto? Oh, va, va. Allora, ho vinto? Sì, ecco il fatto che è una lotto paga subito. Stamattina ne ha anche un cappuccino. Ma gli offro cento. Uno basta, grazie. Corrisponde la segreteria della dea bendata. Lasciate un messaggio dopo il bip. Beh? A prendere anche una biuscina. È una lotto. La fortuna viene giocando. Pronto, sisa? L'ufficio di è bendata? Un altro. Potip. La fortuna viene giocando. Pronto, sisa? L'ufficio di è bendata? Un altro. Tris, la fortuna viene giocando. Come dea bendata sarò impegnata a baciare molti, molti, molti fortunati vincitori sisa. Nel frattempo il primo bacio è per voi.